Continua con grande successo l'estate in città del comune di Pordenone, con appuntamenti di qualità, ma anche di intrattenimento e di svago, con iniziative per tutti i gusti e per tutte le età. Ha fatto tappa nei giorni scorsi il Festival Mondiale del Folklore Giovanile, dove si sono potute ammirare le spettacolari e curatissime esibizioni dei giovani, che hanno deciso di studiare e mantenere le proprie origini e tradizioni, ricreando atmosfere, suoni e armonie tipiche dei paesi baschi. L'Arena Verde del Castello di Torre ha ospitato il nuovo spettacolo dei Papu, Fratelli Unici, che farà un'intera settimana di repliche in stile Broadway. Ha preso il via, nella splendida e suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco, la decima edizione di Filmmakers, il Festival di Cortometraggi e Cinema Indipendente, organizzato da Mediateca Pordenone e l'Associazione Culturale Cinema Zero. L'assessore comunale Claudio Cattaruzza. Prosegue con grande successo di pubblico, l'estate in città 2013, tra i vari appuntamenti vi ricordo che ci sono le letture al Castello di Torre con l'attrice Carla Manzon, a seguire invece il divertentissimo spettacolo dei Papu, Fratelli Unici, e poi al Convento di San Francesco c'è Visioni Sonore, organizzato da Cinema Zero, a seguire con un concerto jazz. E quindi ce n'è un po' per tutti i gusti, ci sono anche il torneo di calcetto a 5, quindi un'occasione da non perdere per gustare meglio che si può quest'estate. Ecco, un'altra cosa estremamente importante da ricordare, anche quelle di giovedì, che ci saranno una serie di iniziative importanti e soprattutto negozi aperti in città, per cui oltre al divertimento ci sarà anche l'occasione di poter fare dello shopping insieme.